Qualcuno le ha definite armi di distrazione di massa, altri si interrogano sul perché. Si dia tanto clamore ad una battuta fatta su una squadra di calcio dal Premier, piuttosto che alle reali difficoltà che i cittadini vivono quotidianamente, come lunghe code per effettuare esami in ospedale, servizi sempre meno numerosi e condizione delle strade, la lista continua per intere pagine di post su Facebook. Tutto nasce dalla richiesta di dimissioni verso il Premier Renzi, avanzate dal sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, per quella battuta infelice sui tifosi, che spiega poi un Premier non può scherzare con i problemi di un'intera regione. E' fuori da qualsiasi logica il fatto che il Premier Renzi viene in visita in Abruzzo e cerca di giustificare eventuali critiche o anche manifestazioni, giusto o non giusto, ho la mia idea, ma le voglia giustificare diciamo dando la responsabilità ai tifosi da Teramo Calcio. Io credo che sia una cosa davvero grave, grave detta soprattutto dal nostro Primo Ministro, da quello che rappresenta tutti i cittadini italiani, compreso i cittadini terramani. Forse anche per battute, è una battuta di pessimo gusto. Io mi aspetto le scuse ufficiali di Renzi, non al sindaco Maurizio Brucchi, ma alla città di Teramo e ai terramani, che in questo momento stanno soffrendo perché vedono sfumare un sogno, un sogno aspettato 102 anni. Ora, torto a ragione, questo lo deciderà la magistratura sportiva, di cui abbiamo massima fiducia, però dico anche che è davvero una nota stonata in un momento difficile per il nostro Paese. Renzi ha annunciato che toglierà la tasse, toglierà tutte le varie tasse locali. Io spero che questo non sia un boomerang che torni nuovamente addosso a noi sindaci e a noi amministratori, che siamo stanchi di fare gli esattori per conto del governo. Mi sono posto una domanda stamattina. Se fosse accaduto a parti invertite, cioè Renzi, sindaco di Firenze, perché lo è stato, anche se lo ha dimenticato spesso, lo ha dimenticato facilmente di essere stato troppo velocemente, di essere stato sindaco, dicevo se a parti invertite Renzi sindaco, Berlusconi, si fosse permesso di fare un apprezzamento di questo genere sulla Fiorentina, che cosa sarebbe successo. La stampa nazionale cerca il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, per le dichiarazioni fatte dal premier Renzi. Veramente c'è stata una sommossa. Io ho ricevuto stamattina un mare di telefonate e mi stanno chiamando anche giornali nazionali perché davvero ha fatto scalpore. Ripeto, soprattutto perché c'è una città, una tifoseria, una squadra, un allenatore che vivono un momento assolutamente difficile.